Ci rivolgiamo alle mamme, ai babbi, ai nonni, a tutte le persone che hanno a cuore quei momenti drammatici quando un bambino ha mangiato qualcosa che non è andato giù nella giusta via naturale ma che è andato cosiddetto, come si dice, attraverso. Oppure un oggetto, un giocattolo. Sono momenti drammatici che dobbiamo essere capaci di far fronte. Tornano così le elezioni per salvare i più piccoli dal soffocamento, l'Asla di Arezzo e la Misericordia hanno infatti deciso di riattivare i corsi per genitori finalizzati ad apprendere le manovre fondamentali da effettuare sui bambini qualora si verifichino problemi di ostruzione delle vie aeree. Questa iniziativa costituisce anche una base per che la Misericordia possa diventare la sede di un pensiero creativo nell'organizzazione sanitaria territoriale. Coloro che desiderano partecipare a questo corso possono rivolgersi alla Asle oppure qui alla Misericordia, telefono 0575 24 24 2 in modo tale da iniziare sabato prossimo 11 giugno questo corso così importante per i nostri bambini. I corsi partiranno il prossimo 11 giugno con orario dalle 9 alle 12 e si terranno presso la sede della Misericordia di Arezzo in via Garibaldi 143. Saranno effettuati da sanitari ed operatori preparati su questo ambito specifico. Le lezioni sono totalmente gratuite.